Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parleremo di sport, lo faremo con un collega che mi fa piacere di trovare in questo studio, Fabio Ferri. Ciao Fabio, buonasera e benvenuto. Un piacere anche per me essere in tua compagnia, un saluto a tutti gli amici di Toscati. Oggi parleremo di sport, senza rubare spazio e tutte le trasmissioni che si occupano, soprattutto di calcio e di Fiorentina, ma anche rispetto al lavoro che fa Fabio giornalmente. Però va detto che, visto che siamo in chiusura dell'anno, Fabio, questo è stato davvero un anno molto importante per l'Italia dello sport e sotto tantissimi profili, dall'inizio del 2021 fino a questa conclusione, l'ultimo, sullo sci, insomma pochi giorni fa, medaglie importanti. Che cosa è successo in questo 2021? È una buona domanda. Intanto, insomma, giustamente citavi la Goggia, che è l'ultima ad essersi unita a questa valanga azzurra, mi verrebbe da dire. Un anno assolutamente particolare, forse anche inatteso, diciamoci la verità, perché l'oro di Marcel Jacobs era difficile da pronosticare, forse quello di Tamberi un pochino di più, ma tante medaglie che sono arrivate e che hanno riguardato anche tanti atleti fiorentini. Penso allo zazzeri del nuoto, ma insomma sono tanti davvero gli atleti fiorentini e toscani che si sono fatti vedere nelle varie manifestazioni internazionali. Difficilmente però ci saremmo aspettati così tante medaglie. Un anno che ha visto l'Italia forse raccogliere anche dei frutti insperati e non sempre costruiti. Dobbiamo dire che per quanto riguarda in special modo l'atletica, insomma, raccontiamo spesso delle difficoltà di chi fa questi sport per prepararsi in vista delle varie manifestazioni, l'Olimpiadi, i mondiali e i campionati europei, però insomma c'è un valore, c'è un valore all'interno dei nostri confini regionali, che è portato dalle tante, in realtà anche delle tantistiche che seguono il mondo sportivo, secondo me questo va ricordato. Poi insomma negli ultimi giorni e anche proprio in risposta al momento pandemico, ad esempio all'interno dei nostri confini, e lo ricordava il presidente Gianni, sono stati sborsati milioni di euro per favorire lo sport. Però insomma mi viene da dire che è più nei geni, nel DNA di noi italiani questo successo, queste state di successi, che nella nostra organizzazione. E questo insomma ci farebbe pensare, come spesso si dice, chissà se avessimo anche l'organizzazione dove potremmo arrivare, insomma come magari in altri paesi c'è e magari sopperisce anche a qualche, diciamo così, carenza di DNA rispetto a quelle che magari noi abbiamo appunto innate. Senti, tra l'altro, visto che ricordavi tanti successi, non dimentichiamoci anche tutto ciò che è successo alle Paralimpiadi, per cui l'Italia è da sempre, insomma, uno dei primi paesi al mondo per successi, per qualità dello sport, ma è anche questo una cosa molto importante. Cioè forse però, se vogliamo trovare, come dire, laddove è mancato l'ultimo miglio, diciamo così, il tennis, forse il rimorso più grande di quest'anno. Beh, il rimorso più grande però stiamo vivendo a cavallo di una generazione di fenomeni. Questo, insomma, lo dobbiamo dire, il tennis italiano, penso, non abbia mai toccato livelli così alti, almeno per quanto riguarda il maschile. Invece al femminile, con le varie pennetta, vinci, schiavone, insomma, siamo stati per anni, comunque un movimento importante. Con gli uomini si è sempre fatto molta più fatica, io i tempi di Panatta, ahimè, non li ricordo, però vedo che con Mussetti, con Sinner e poi con il nostro Berrettini, tifoso viola, nonostante è nativo di Roma, sta davvero arrivando un momento, e dico sta arrivando perché questi ragazzi si devono ancora formare a pieno, sta arrivando un momento importante per l'Italia del tennis e è vero, Berrettini non ce l'ha fatto a battere Novak Djokovic al torneo di Wimbledon, ma, come dire, insomma, il futuro è dalla parte di Berrettini e non dalla parte di Novak, che è un campione assoluto, che a me piace tantissimo, ma, insomma, ha una carta d'identità sicuramente più preoccupante, più scomoda, esatto, di quella di Berrettini. Senti, così ci avviciniamo anche un po' a temi che riguardano anche più da vicino la Toscana e Firenze, ne parleremo a 360 gradi, poi ovviamente parleremo anche di altri sport, quest'anno c'è stato ovviamente anche il successo degli europei, anche quello forse in partenza non era così sperato, o invece sì? Ma, direi che avevamo tutti la sensazione di avere una nazionale giovane, divertente, che, insomma, veniva anche da una striscia di successi consecutivi, e quindi, insomma, avevamo tutti la sensazione di avere una buona nazionale, che poteva dire la sua ai campionati europei, tutti però temevamo che, insomma, la squadra a dominare la competizione, appunto, degli europei sarebbe stata la Francia, quindi pensavamo tutti che c'era quantomeno una squadra più forte della nostra, invece, come succede a volte nel calcio, i risultati hanno dato ragione all'Italia, forse anche più delle singole prestazioni, io penso alle partite contro Inghilterra e Spagna, in cui, insomma, abbiamo saputo soffrire, al di là di una svolta nel gioco, è stata portata da Mancini, ma ci siamo ritrovati i catenacciari, ci siamo ritrovati non catenacciari, ma in grado di difendere la nostra con il nostro calcio, e siamo riusciti a ottenere i risultati, che poi sono quello che fa maggiormente la differenza nel mondo del calcio, più del gioco, spesso, insomma, nel calcio, chi fa un gran bel gioco vince, ma non è una garanzia assoluta di successo, a differenza di altri sport dove, insomma, i numeri mentano raramente, ma il calcio è sport episodico, la nostra nazionale... Si segnano pochi golle, no? Si vince con pochi golle, quindi... Esatto, e pensa, pensa, Alessio, la nostra nazionale in questo momento sta attendendo, no? Un appuntamento importante che è quello degli spareggi per andare al mondiale in Qatar, che sarà una assoluta novità, si giocherà d'inverno nel 2022, a cavallo tra novembre e dicembre. Pensa, Alessio, che la nostra nazionale, che è campione d'Europa, per due pareggi con la Svizzera, cioè due gare in cui non siamo stati in grado di segnare quei gol che poi hanno fatto la differenza, ci ritroviamo appunto a questi play-off, con ovviamente dei rigori di Giorginio che ci fanno capire, no? Quanto un singolo episodio sia determinante nel mondo del calcio. È assolutamente così. Solo su questo, una chiosa velocissima, era plausibile aspettarsi, no? Perché ovviamente dopo un europeo c'è grandissimo... un europeo vinto, c'è grandissima attesa. È anche vero che quando si vince poi, come direi, continuare sulla striscia delle vittorie, anche per quanto riguarda le qualificazioni per i mondiali, non è automaticamente semplice. Insomma, ci si poteva aspettare oppure siamo andati peggio del previsto? Ma secondo me la nazionale contro la Svizzera ha pareggiato. La Svizzera è una buona nazionale e tutto il girone di qualificazione ai mondiali si decideva in quelle due partite, perché erano le due squadre che si potevano giocare il primato. L'Italia ha pareggiato due partite e pareggiandole non ha fatto niente di diverso rispetto all'europeo. Perché ricordiamoci sempre che noi, l'europeo, lo abbiamo vinto ai rigori, che ovviamente nelle gare di qualificazione non si battono. Abbiamo vinto contro la Spagna ai calci di rigore, che ovviamente non si battono, ripeto, nelle partite di qualificazione. L'Italia che pareggia nei 90 minuti non è una novità. Non è una novità, ecco, io non mi stupisco di questo, anche perché, ripeto, la Svizzera è una buona squadra. Certo, adesso abbiamo un po' tutti paura, perché la ferita legata all'ultimo mondiale non disputato è ancora fresca e comunque ci sarà da guadagnarsi da questa qualificazione, prima con la Macedonia e poi verosimilmente con il Portogallo. Non sarà proprio una passeggiata? Vedremo, vedremo come andrà. Tra l'altro, visto è così, rimaniamo sul calcio, ma ci spostiamo in Toscana e soprattutto a Firenze. Toscana che in questa stagione di Serie A sta regalando tanto anche con l'Empoli, però parliamo di Fiorentina. No, no, parliamo di Fiorentina, ma vale la pena fare anche un accenno sull'Empoli, perché effettivamente è uno degli espluano, diciamo così. Poi in realtà l'Empoli ci ha abituato anche a questi periodi di ottimi risultati, cui magari a volte sono seguiti anche dei periodi peggiori. C'è una chimica, partiamo proprio da Empoli, c'è una chimica in questa cosa qui, c'è un disegno preciso o è, come dire, un po', diciamo così, non il fortuito, ma comunque qualche nota positiva rispetto a un gioco e appunto si disputa e si vince anche con risultati... Allora, direi che se gli azzurri dello sport, che sono gli italiani, hanno la fortuna di avere un ottimo corredo genetico e quindi di avere i geni dei campioni all'interno delle loro cellule, invece l'azzurro empolese è un azzurro estremamente organizzato, io penso che questa società non si possa che fare gli applausi, perché che un paese di 50-60 mila abitanti sia in Serie A, insomma lo ripetiamo tante volte, ma è un assoluto capolavoro. Questo Empoli in particolar modo è l'Empoli figlio della grande stagione di Serie B della passata stagione, ricordiamo appunto un Empoli che ha vinto il campionato, ma l'ha vinto con Dionisi, che è un allenatore che oggi allena il Sassuolo, è tornato Andrea Soli, che comunque è riuscito a mantenere diciamo quel clima positivo, quelle sensazioni positive, quelle vibrazioni positive che c'erano anche l'anno scorso. Andrea Soli è una persona molto apprezzata ad Empoli, è una persona che quindi ha trovato anche un ambiente, come dire, favorevole per rimmergersi in azzurro, allo stesso tempo però non è mai scontato riuscire a traslare i risultati fatti in Serie B con una squadra quasi del tutto immutata in Serie A. L'Empoli lo sta facendo, dimostrazione che all'interno di quel lavoro che dicevamo, di quella meticolosa programmazione che fa Fabrizio Corsi, insieme ai suoi dirigenti, c'è tanta qualità nei singoli, nei giocatori, che probabilmente poi vedremo, come sempre, prendere altre destinazioni per magari carriere più importanti, però insomma c'è grande valore in questa rosa, c'è grande valore nel lavoro che viene fatto con i giovani in special modo dagli azzurri, che ieri sera fra l'altro hanno vinto il rimonta 3-1 contro l'Udinese, confermando anche dei valori morali molto forti, perché non è mai facile recuperare le partite. È di mentalità, infatti secondo me la chiave, in quello che dicevi, anche rispetto, diciamo così, al modo in cui si prende, si vive una stagione che può essere in B, soprattutto per squadre, come dire, che ovviamente non sono le squadre abituate a stare nelle parti alte della classifica di Serie A, è molto importante riuscire a fare una nata ottima e, come dire, a costruire un'architettura che funziona a livello di gruppo in Serie B, perché poi te la ritrovi anche in Serie A sostanzialmente. Eh sì, anche perché appunto l'Empoli ha delle qualità, ma insomma viaggia molto anche sull'organizzazione, c'è un modulo che è questo 4-3-1-2, che insomma abbiamo visto con Sarra, abbiamo visto con Giampaolo, l'abbiamo visto in parte anche con Dionisi e poi adesso lo ritroviamo con Andrea Zoli. Quindi c'è un fil rouge tra queste grandi stagioni empolesi, c'è una continuità, allo stesso tempo c'è appunto la capacità di valorizzare i giovani, di pescare poi di volta in volta magari quel rinforzo che in Serie A può essere importante. Mi viene in mente ad esempio Vicario, che è un portiere che sta facendo bene questa sua prima vera stagione di Serie A, nessuno penso se lo aspettasse, nessuno lo conosceva, l'Empoli ha sacrificato Brignoli che era un portiere di assoluto affidamento, che aveva fatto benissimo in Serie B, ma con l'ongiumeranza è andato a prendere uno illustre e sconosciuto che gli sta però dando tanto davvero. Senti, come dire, effettivamente anche quello è stato un esploma, anche se come dire, di caratura evidentemente diversa, o forse no, perché te lo hai sempre riconosciuto che Vlaovic sarebbe diventato poi un giorno un grande giocatore. Certo, un giocatore come questo, oggi è considerato uno dei più forti attaccanti in Europa, anche stando ai numeri, insomma, rispetto ai record, non record battuti, o da battere di qui a fine 2021, insomma, in pochi forse potevamo aspettarcelo. Ti voglio fare una domanda precisa su questo, portanto parliamo anche del resto. Ma basta un anno e mezzo, diciamo così, a questi livelli per dire che è uno dei giocatori più forti d'Europa? Un tempo forse ci voleva un po' più tempo. Come hai detto, insomma, io ci credo sin dalla prima ora in Dusan Vlaovic, sin dalle prime prestazioni con la primavera, e per me il metro di paragone era già all'epoca Zlatan Ibrahimovic, quindi sì, le aspettative su questo giocatore io le avevo importanti, mi immaginavo sarebbe arrivato a questi livelli, poi insomma, così bene magari era difficile anche pronosticarlo. Se basta un anno e mezzo a questi livelli, beh, io direi oggi Vlaovic con 13 gol è il capocannoniere della Serie A a pari merito con Immobile, l'anno scorso ha fatto più di 20 gol, quindi aggiungo anche un altro dato statistico interessante, Vlaovic ha fatto più gol con la maglia della Fiorentina in campionato rispetto a Roberto Baggio, ha superato come rigorista Viola Amrin, insomma, mi pare che i termini quando si parla di questo ragazzo si parla di uno per cui se spendi un paragone è un paragone importante, Amrin, Baggio, Battistuta. Tra l'altro è un giocatore moderno, un fisico incredibile, giovanissimo. È obiettivamente fantastico, io penso ci sia poco da dire, l'unico dispiacere è che non ce lo potremo godere per di più di questa stagione. E lì è la grande domanda, non tanto su cosa succederà su Vlaovic, perché come dire, si spendono giustamente tutti a intuire, immaginare, a volte insomma anche a magari così, a inventarsi un po' quello che potrà essere il suo futuro e le varie opzioni di mercato, come farà la Fiorentina a rimpiazzarle, però questo è un sforzo più concreto, anche più importante. La verità è che non si può, perché uno come Vlaovic non lo ritrovi così facilmente, secondo me è uno di quelli che passa una volta ogni tanto sul panorama calcistico. La Fiorentina è stata brava all'epoca a pescarlo dalla Serbia, ma le garanzie di poter ritrovare uno come Vlaovic non ci sono. Io anche nell'ultima puntata di A tutto gollo ho sempre detto che la Fiorentina deve puntare a prendere un nuovo attaccante, perché il futuro è inevitabile, e deve provare a prendere il più forte che c'è. Conscia però allo stesso tempo che probabilmente non sarà come Dusan Vlaovic. Quindi, anche guardando un po' gli amici empolesi, lavoriamo anche sui giovani, perché magari, come è successo per Vlaovic, poi la soluzione ti arriva da un ragazzo, arrivato per giocare con la primavera e poi diventato fondamentale anche per la prima squadra. Detto che è chiaro, se Vlaovic dovesse andare via a gennaio, cosa che non ritengo tanto verosimile, hai bisogno invece di uno maturo pronto in assoluto. Pronto subito, è certo. Sarebbe comunque ingeneroso, e questo forse è una buona notizia, dire che questa Fiorentina di italiano è tutta merito di Vlaovic, diciamo così, il posto in classifica, le gare disputate, la qualità, insomma, vista in campo, sarebbe appunto ingeneroso dire che è soltanto merito di Vlaovic. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che Vlaovic continua a segnare e questo, secondo me, non dipende dall'allenatore che lo guida, perché, insomma, l'ha dimostrato, segnava con Prandelli, segnava con Iachini e adesso segna con Italiano, però, insomma, gran merito di questa Fiorentina va data al suo manico, a Vincenzo Italiano, che è arrivato, come sappiamo, insomma, subentrando a un Gattuso che di fatto non è mai diventato allenatore della Fiorentina e sin dal giorno 1 di Moena, io c'ero, ha dato l'impressione di un nuovo inizio, ha messo quell'energia che Firenze e la Fiorentina necessitava dopo una stagione obiettivamente sfibrante e Italiano è stato poi maestro nel recuperare tantissimi calciatori che forse anche con un po' di presunzione la Piazza Fiorentina aveva giudicato troppo severamente e troppo velocemente mi vengono in mente ad esempio i Duncan ma ci sono altri giocatori sicuramente da citare i Saponara forse è il caso ancora più più lampante Italiano lavorando su questi giocatori su questi valori della Fiorentina è riuscito a a costruire una squadra che oggi comunque sta lottando per l'Europa è sesta in classifica a pari punti con la Juventus B a restituire valore a questi giocatori perché Duncan arrivato comunque dal Sassuolo con anche una cifra importante aveva visto il suo valore precipitare verso il basso oggi è rivalutato tanti giovani della squadra della Fiorentina vedano la loro valutazione aumentare con Vincenzo Italiano quindi non solo il risultato di campo ma anche la possibilità di fare delle plusvalenze detto che forse non è il periodo giusto per parlare di plusvalenze no in questo momento direi proprio di no viste anche come dire le recenti inchieste di report tra l'altro che hanno toccato proprio in questi giorni anche il caso Vlaovic il caso dei procuratori e vista anche insomma la presa di posizioni forte della dirigenza Viola di commisso proprio rispetto a questi temi lasciamo un attimo da parte anche perché ripeto insomma di Fiorentina parli te ogni giorno non mi rubare il lavoro esatto non voglio rubare il lavoro però oggi abbiamo cercato e stiamo cercando di fare il punto a 360 gradi sullo sport ti chiedo questo pochi giorni fa c'è stata a Firenze ci sono stati gli stati generali dello sport magari poi dalla regia recuperiamo anche qualche immagine dovremmo averla vediamo se ce la facciamo in ogni caso è stato il punto diciamo il momento per fermarsi un attimo tirare una linea una linea bianca come abbiamo titolato noi magari e capire a che punto siamo e che cosa c'è da fare che cosa è emerso beh sono tante le tematiche che sono state trattate anche perché comunque c'era voglia da parte della società sportiva di ritrovarsi di parlare di portare i loro problemi alle istituzioni perché poi insomma erano presenti tutte le istituzioni con Eugenio Gianni il presidente della regione il sindaco Nardella ovviamente Giorgetti che è il rappresentante provinciale appunto del CONI e che ha organizzato questa grande manifestazione era presente Luca Lotti insomma erano presenti davvero un po' tutti i quadri generali del mondo del mondo dello sport quello che è emerso è che questo mondo nonostante la grande fatica nonostante il colpo ricevuto dalla pandemia durante la pandemia questo movimento sportivo rimane forte e la presenza di così tanti dilettanti di così tanti dirigenti di società dilettanti a un evento del genere fa capire che appunto la voglia di andare avanti c'è allo stesso tempo ci saranno tante battaglie da combattere mi viene in mente quella dell'energia perché noi abbiamo per scontato che la bolletta la paghiamo solo noi a casa ma le società sportive che magari hanno una piscina da riscaldare 365 giorni l'anno insomma con questi aumenti del mesano dovranno inevitabilmente insomma guardarsi attorno per reperire risorse aggiuntive c'è poi un tema degli spazi un tema degli impianti un tema che è venuto fuori proprio da questi quadri generali è stato quello dell'assegnazione degli impianti che troppo spesso ha favorito la creazione di poli forti e di piccole società che invece non avevano neanche i due metri per due metri per allenarsi quindi le tematiche affrontate in quell'appuntamento sono state davvero tante e una cosa bella è che per una volta nonostante fossero presenti le istituzioni ma chi rappresentava la società si è potuto alzare e ha potuto dire la sua ha potuto portare qualcosa all'istituzione non sono state le istituzioni che dall'alto hanno riversato il loro sapere si è esattamente così tra l'altro è uno dei temi di cui parlavamo all'inizio perché è un conto è avere il DNA giusto diciamo così la predisposizione giusta e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo poi bisogna lavorare per organizzare perché ovviamente serve anche come dicevi te giustamente gli spazi servono gli impianti servono le risorse pubbliche tante volte proprio per creare quel fermento anche come dire capillare cittadino nelle città nei borghi anche nei luoghi un pochino più lontani dei centri abitati più grandi per tenere vivo il fermento e soprattutto questo lo aggiungo io ma è un tema che so che condividi insomma lo abbiamo visto bene in questo momento di pandemia quando poi alla fine lo sport che è anche relazione sociale che è anche interazione tra le persone insomma sia importante anche e non soltanto per la forma fisica o per raggiungere la medaglia no? no assolutamente assolutamente però come dire ci sono i grandi campioni le grandi società private e poi c'è tutto lo sport che deve essere sostenuto dal pubblico questo è in dubbio no? assolutamente sì ci sono le grandi realtà le grandi società che devono essere forse moralmente eticamente più precise più puntuali che non devono farsi trovare in fallo come tante società professionistiche che hanno milioni e milioni dei debiti ci è però un'amministrazione che lo sport lo deve in particolar modo in questo momento di ripresa lo deve accompagnare lo deve prendere per mano sì anche perché appunto poi noi tutti abbiamo bisogno dello sport io vedo l'esplosione del paddle come uno dei momenti sociali più importanti per il nostro paese fra l'altro di cambiamento anche generazionale perché si abbandona il vecchio calcetto e si va verso il paddle io sono ancora per il calcetto è più semplice è più veloce e che nascono anche diversi campi tra l'altro esatto si spuntano spuntano come fun senti siccome non riusciamo poi a parlare di tutti degli sport di cui però puntualmente ti occupi anche nel tuo telegiornale so che insomma sei ovviamente un partito di basket e anche su questo volevo chiederti però questi ultimi minuti li dobbiamo dedicare all'altra grande passione non solo di Fabio Ferri ma di tanti fortunatamente tifosi la Savino del Bene anche perché domani è una giornata importante domani è una giornata importante perché dalle 17.30 al palazzetto dello sport di Scandicci la Savino del Bene disputa la gara d'andata degli ottavi di finale della Challenge Cup che per spiegarlo a chi non è troppo dentro la vicenda pallavolo è la terza Coppa Europea per quanto riguarda il volley femminile la Conference League del calcio per intendersi avversaria di turno lo Sport Club Potsdam città tedesca che mi mette sempre in difficoltà proveniente dal Land del Bradenburgo una squadra forte perché è quarta in Bundesliga dopo sette partite di campionato ne ha vinte sei è persa appena uno è già in semifinale di Coppa di Germania è una squadra che si è sbarazzata di una formazione portoghese con un doppio 3-0 nei sedicesimi di finale della competizione quindi la Savino del Bene attende una rivale forte aumenta il livello di difficoltà anche per la Savino del Bene che nei sedicesimi aveva superato le greche del Tettis Atene con grande facilità e soprattutto e questo lo dobbiamo dire a Scandicci oltre a una partita importante una partita bella una partita internazionale a Scandicci ormai da anni si continua a fare sport di alto livello non solo in Italia ma anche in Europa e questo forse ci manca un po' perché col calcio è tanto tempo che non tocchiamo appunto competizioni europee io spero che quest'anno la Fiorentina ce la faccia a restituire l'Europa alla provincia di Firenze nel frattempo però Scandicci ha tenuto alta la bandiera come si suol dire e questo è molto importante tra l'altro la nostra passione da sempre per le ragazze della Savino del Bene che ci danno appunto come ricordava Fabio tante gioie ogni anno grazie mille Fabio Ferri per essere stato con noi a voi è stato un piacere grazie grazie a tutti per averci seguito da casa terminiamo qui con Telegram ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti